Onorevole Sassu, il Sulcis in grande difficoltà, in grave crisi, ha bisogno di aiuto e l'aiuto che arriva dall'istituzione è quello di tagliare ancora i servizi. Con la sede IMSS a rischio di chiusura, dopo la chiusura di Tribunale, Camera di Commercio, Stazione della Guardia di Finanza e altro ancora. Mi ha fatto molto piacere essere qui stamattina, purtroppo, come avete detto, per uno spiacevole presagio di quello che potrebbe essere nel prossimo futuro. Quindi questo sit-in dei riformatori, Bang Bang, è stato veramente un'ottima iniziatura per rinunciare quello che l'INPS sta facendo non solo nel Succis, ma in tutto il territorio sardo. Chiudere dei punti l'INPS dove il territorio soffre, dove l'INPS eroga dei servizi fondamentali come quello di assistenza al reddito, quello delle pensioni, è veramente un controsenso. È far odiare lo Stato dai cittadini, è far capire che lo Stato si sta ritirando e se i privati di cui devono investire mentre lo Stato si ritira, il privato scappa, il privato non verrà a investire dove lo Stato non ci crede. Il messaggio che diciamo noi è che soprattutto nel Succis lo Stato si deve far sentire, deve mantenere i servizi e deve far capire al privato che qui può investire perché lo Stato ci crede e soprattutto deve venire a investire trovando tutti i servizi a disposizione. I servizi non possono essere solo a Cagliari perché Cagliari sta soffrendo, la gente che viene giustamente a cercare assistenza non è adeguata la struttura ad assistere tutti. La Sardegna ha una sua specificità, la Sardegna ha un territorio vasto, le persone devono poter restare in questo territorio, devono restare nel Succis e non emigrare, quindi soprattutto l'Inps si metta l'anima in pace, mantenga il servizio così com'è, anzi lo integri perché si sta prendendo altri anche incarichi come quello delle visite per l'invalidità e c'è veramente bisogno di tanto personale anche qui a Carbonia.